Questo è un breve video che è dedicato al sorriso dell'apparato digerente. Quindi, ormai siete pratici, raggiungete il vostro luogo scelto per fare meditazione, iniziate col sorriso negli organi, oppure se volete utilizzare solo questo esercizio per problemi digestivi o dell'apparato digerente, potete fare solo anche questo esercizio quando ne avete bisogno. Dunque, dovete cominciare come al solito a tirare dalla fronte l'energia del sorriso che sta di fronte a voi e dirigere questa energia verso l'apparato digerente. Quindi dovete accumulare la china abbondanza e fatela scorrere dietro il naso e la bocca. Userete la saliva per far sì che questa energia colmi tutto l'apparato digerente. Vediamo come si fa attivare la saliva, che è considerata un prezioso fluido d'altoismo. Per attivare la saliva, facciamo scorrere la lingua lungo i denti, con la punta contro le gingive. Si inizia dall'alto con i denti posteriori, da sinistra verso destra, poi nella parte inferiore, da destra e sinistra. Ripetete questo esercizio diverse volte. Poi fate la stessa cosa con la parte interna dei denti e delle gingive. Continuate fino ad avere una buona quantità di saliva. Ora, immaginate che la saliva sia imbevuta della chi, che giunge dal punto in mezzo alle sopracciglie. Raccogliete la saliva in una specie di sfera in mezzo alla lingua. Portate la lingua al palato e inghiottite la saliva velocemente, come un grande boccone, che porterà la chi nell'apparato digerente. Questo esercizio porterà energia del sorriso all'esofago, allo stomaco, all'intestino crasso e tenue, al retto e all'anno. Il sistema digerente è sensibile alle emozioni e molte persone si stressano quando il corpo si trova in queste situazioni. La digestione si interrompe e succhi gastrici dello stomaco cessano di funzionare. Questa è una lezione breve, ma intesa. Rilassando l'apparato digerente, soprattutto nelle parti che sentite irritate, migliorerete la vostra situazione.